7 dicembre 1852 A seguito di un processo che vede imputate 110 persone vengono giustiziati il sacerdote Enrico Tazzoli, Angelo Scarsellini, Bernardo De Canal, Giovanni Zambelli e Carlo Poma. Seguaci di Giuseppe Mazzini sono alcuni degli undici condannati per attività sovversiva e impiccati fra il 1852 e il 1855 nel forte di Belfiore a Mantua. Passeranno alla storia come i martiri di Belfiore.